A cosa servono le ottiche di tipo fisheye e perché dovrei fare spazio nel mio zaino fotografico per portarmi dietro una lente come questa? Nel corso di questo video andrò a cercare di rispondere a questa domanda. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia per le aziende da tanti anni, sono in possesso di un paio di obiettivi fisheye, quindi neanche uno solo. Nel corso di questo video andrò a farvi vedere un po' di immagini realizzate con questi obiettivi e non solo e andrò a raccontarvi quella che è la mia esperienza con questa tipologia di lente, andremo anche a cercare di capire per chi è, per che cosa la posso utilizzare, se mi conviene o non mi conviene acquistarne una. Motivo per cui vi consiglio di rimanere sintonizzati su questo video fino alla fine perché impareremo un sacco di cose interessanti. Colgo anche l'occasione per ricordarvi che se volete iscrivervi al canale l'iscrizione è completamente gratuita e si effettua mediante la pressione del pulsante che si trova subito qui sotto. Molto bene, ma prendiamola un po' larga. Che cos'è un'ottica fisheye? Si potrebbe erroneamente pensare che un obiettivo fisheye sia semplicemente un grandangolo portato alle estreme conseguenze, quindi un obiettivo con un angolo di campo ampissimo. Di fatto credo che sia l'obiettivo con l'angolo di campo maggiore in assoluto perché arriviamo a un angolo di campo di 180 gradi, quindi è una cosa veramente difficile da ottenere otticamente e infatti la maggior parte delle lenti che noi abbiamo in nostro possesso non hanno un angolo di campo di questo tipo. Non è tutto qui però, si tratta proprio di un'ottica speciale perché non è semplicemente un grandangolo portato alle estreme conseguenze. Un grandangolo estremo potrebbe essere un 14 mm, addirittura adesso vedo che ci sono degli 11 e dei 10 mm per full frame, quindi esiste per esempio il 10-20 mm per Canon, quello è un grandangolo veramente estremo, eppure rimane un grandangolo rettilineo, quindi non presenta una distorsione da fisheye. Invece il fisheye ha proprio questa caratteristica di presentare questa tipica distorsione che nella maggior parte dei casi può non essere desiderata, ma se andiamo a utilizzare un'ottica come questa si possono ottenere degli effetti particolari. Quello che caratterizza veramente un'ottica di tipo fisheye è la sua costruzione, perché non stiamo parlando di un grandangolo rettilineo con un angolo di campo molto ampio, stiamo proprio parlando di un'ottica speciale che ci permette non solo di catturare una porzione della nostra scena molto ampia, non ha solo un angolo di campo molto ampio, ma anche una curvatura tale che nel momento in cui noi andiamo a utilizzare, come nel caso dell'ottica Canon, questo è l'8-15 mm, nel momento in cui noi andiamo a utilizzare il 15 mm avremo un ampissimo grandangolo con molta distorsione, ma nel momento in cui andiamo invece a utilizzare l'8 mm addirittura per poter catturare la luce a 180 gradi vedete che il nostro frame diventa circolare, è un tipo di fotografia molto particolare, devo dire tornato alla ribalta proprio di recente perché è stato utilizzato nel film Povere Creature, che vi consiglio di vedere, perché al di là dei messaggi che veicola con cui io non mi trovo sempre particolarmente d'accordo, li trovo un po' estremi e un po' sviscerati in maniera sbagliata, però detto questo a livello di fotografia l'ho trovato un film ben fatto, anche se con degli strafalcioni perché ci sono dei cieli finti che sembrano appiccicati con paint, però a livello di scelta delle ottiche si è andati a ricadere su un'ottica di questo tipo, non sono neanche sicuro che fosse un 8 mm e secondo me era ancora più estremo dell'8 mm oppure hanno smagheggiato in post produzione perché l'inquadratura era proprio un tondo in centro con tutto nero intorno, quindi era veramente estremo, era proprio per dare un focus estremo ma con una distorsione esagerata, una bella scelta artistica, una scelta difficile, una scelta che non si fa sempre, non si fa in tutti i film, non si fa in tutte le scene perché sarebbe ridondante e diventerebbe a mio avviso fastidioso per l'occhio, non è una bella prospettiva da vedere sempre, è una bella prospettiva da usare ogni tanto perché colpisce in virtù del fatto che è diverso da quello che vediamo tutti i giorni. Proprio per questo un'ottica del genere potrebbe trovare posto nel nostro zaino, secondo me, perché si tratta di un obiettivo che ci permette di fare delle cose che in altro modo non potremmo fare e perché ci restituisce una prospettiva così strana, così diversa da quello che vediamo col nostro occhio che ci permette magari di apprezzare una scena che abbiamo sempre trovato noiosa o ci permette di dare una nuova interpretazione di un qualcosa che abbiamo sempre fotografato in maniera lineare e quindi senza dargli lo slancio delle curve che quest'ottica è in grado di catturare. Come detto noi qui ne abbiamo due, questa qui è quella di TT Artisan che ho anche recensito sul canale, trovate la recensione tra i miei video pubblicati. Come potete vedere si tratta di un'ottica con il vetro bombato, caratteristica dei fisciai è spesso quella di avere il vetro bombato, come potete vedere qui abbiamo un paraluce integrato, anche questa è una cosa che succede molto spesso, perché avendo questo vetro bombato che quindi è in rilievo, vedete, un paraluce integrato che non si può togliere fornisce un minimo di protezione in più da urti o quant'altro, inoltre anche da luci di tipo parassita, perché ovviamente con un angolo di campo così ampio qualunque luce ci sia in giro diventa inevitabilmente una luce parassita. Si tratta quindi di un'ottica non facilissima da usare. Inoltre bisogna prenderci un po' la mano perché queste prospettive così strane, così particolari possono essere molto appaganti se utilizzate in un certo modo, ma possono anche essere estremamente spaesanti se utilizzate con imperizia. In particolare io vi sconsiglio fortemente di fare ritratto con una lente come questa perché la distorsione dei lineamenti darebbe una resa tale per cui la persona ritratta a stento si riconoscerebbe. Quindi è una cosa molto strana, non che non si possa fare, si può utilizzare per enfatizzare delle pose strane. Se ci sdraiamo a terra e quindi stiamo sdraiati a terra con l'obiettivo puntato verso l'alto e una persona ci salta sopra e a terra dall'altra parte, quella può essere una foto molto figa da fare col fisheye perché abbiamo questa estremizzazione delle gambe lunghissime della persona che ci salta e ci passa sopra. Quella è una idea carina che si può fare, però è una foto un po' particolare, non è un ritratto, cioè un ritratto primo piano o mezzo busto, cose del genere assolutamente improponibili con una lente come questa. Che cosa si fa con un'ottica come questa? A mio parere si può fare street, perché sì, si può fare street secondo me con un'ottica come questa, anche perché questa qui è una f2 addirittura, cavolo, non me lo ricordavo più, è un f2. Quindi sì, questo qui è un fisheye molto luminoso, che è il motivo per cui l'avevo scelto nel catalogo di TT Artisan probabilmente, è un fisheye molto luminoso, è un'anomalia per me, nel senso che io sono abituato con questo qui di Canon. Faccio vedere anche questo, guardate che bel bestione. Io sono abituato con questo che ha un paraluce non integrato, questo è removibile, però ovviamente su lenti del genere non si possono montare i filtri a vite, non si può perché la lente ha uno smusso tale che non ci permette di avvitare nulla, viene in fuori e ci rende impossibile qualsiasi tipo di utilizzo di filtri. Io sono abituato con quest'ottica che ha un'apertura di f4 costante. Mi pare di ricordare che l'omologa su Nikon, molto bella anche quella però, è un diaframma variabile che è un f3.5 che finisce a 5.6, non mi ricordo più, una cosa del genere. Tra le due io preferisco questa perché ha l'apertura fissa, ho sempre preferito questa tra le due. Sono comunque abituato a dei fisciai con un'apertura un po' risicata perché sono ottiche, attenzione, queste qui sono ottiche che ci permettono di scattare con dei tempi lunghissimi. Con questa io scatto a mano libera un quindicesimo di secondo senza grossi problemi se sto scattando qualcosa di fermo. Una persona che si muove, che fa skateboard, non posso scattarla un quindicesimo, verrebbe mossa, ma un edificio, un paesaggio, posso scattarlo a mano libera un quindicesimo, un paesaggio notturno, posso farlo a mano libera un quindicesimo di secondo e viene bene con un'ottica del genere perché il movimento è minimizzato dall'angolo di campo estremo che abbiamo su un'ottica di questo tipo. Dunque per chi è quest'ottica? Innanzitutto facciamo una distinzione perché questa qui è un'ottica con un certo tipo di prezzo e questa ha tutt'altro tipo di prezzo, quindi ci sono varie fasce per fortuna. Possiamo trovare dei fisciai che costano tra i 300 e i 500 euro e possiamo trovare dei fisciai che costano più di mille, milledue, non mi ricordo più, milledue, diciamo una roba del genere. Per chi è un'ottica del genere? Sicuramente per chi è fantasioso, vuole sperimentare, vuole divertirsi facendo qualcosa di inusitato, qualcosa di sperimentale. Un'ottica del genere secondo me performa molto bene in taluni contesti, non in tutti. I contesti dove a mio parere con un fisciai si possono fare delle ottime cose è fotografia di architettura ma solo certi ambiti della fotografia di architettura. Perché ovviamente io non posso fare un interno con un fisciai, sì posso farlo ma viene molto distorto e quindi non è gradevole e non risponde all'esigenza di una fotografia di interni. Ma se ci trovassimo in una sala con un soffitto a volta o con una cupola, ecco che un fisciai per catturare una cupola è veramente la morte sua. Perché se io mi posiziono esattamente in centro allo zenite, scatto rivolto verso l'alto, a quel punto con un fisciai riesco a rendere giustizia alla volta, alla cupola che sto fotografando in maniera molto più ampia rispetto a un grand'angolo tradizionale. Questo è un caso dove assolutamente avere quest'ottica nello zaino può fare la differenza. Un altro tipo di contesto dove secondo me quest'ottica rende molto bene sono i contesti un po' dinamici nonostante la sua apertura. Quindi sport diurno all'aperto, fotografare skateboard per dire o basket se si riesce con un'ottica come questa viene molto bene perché ti dà una prospettiva strana, ti dà una prospettiva diversa dal solito. Ovviamente sto parlando di sport posati, non è che durante le gare possiamo usare un'ottica come questa perché per usare un'ottica come questa durante una gara dobbiamo andare troppo vicino agli atleti, alle persone che stiamo fotografando. Quindi non possiamo usare quest'ottica per fare le gare sportive, saremo troppo lontani. Possiamo farlo per dare una prospettiva di uno stadio pieno, per esempio. Quindi va bene per fare street, per rendere l'idea della scena globale. Va bene per fare reportage secondo me perché se stiamo facendo un reportage di un evento con la festa dell'Inter in piazza Duomo a Milano per esempio, se vogliamo far vedere la piazza gremita di persone questa è un'ottima ottica per uno scatto del genere anche se è un po' buia. Oppure paesaggio. Ora il paesaggio è un po' controverso col fisheye perché tenete conto che abbiamo la distorsione che è molto variabile. A seconda di come noi componiamo la distorsione si muoverà e rimodellerà la realtà intorno al punto centrale che è quello dove convoglia questa distorsione. Io trovo che noi possiamo utilizzare il fisheye in due modi quando facciamo paesaggio. Possiamo puntare verso l'alto o verso il basso per estremizzare la curva dell'orizzonte. Quindi se puntiamo verso l'alto l'orizzonte curverà in questo modo se puntiamo verso il basso l'orizzonte punterà in quest'altro modo e quindi potremo vedere la curvatura della terra banalmente che però è finta non è la vera curvatura della terra ma è simulata dall'ottica oppure potremo creare un effetto assurdo con la terra che curva nell'altro modo che è quello sbagliato. Otticamente ci sembra sbagliato però quando guardiamo la foto ci restituisce un qualcosa di simpatico di carino di diverso dal solito per cui può essere una scelta che vale la pena fare. L'altro modo è quello di posizionare l'orizzonte perfettamente al centro. In questo caso non avremo più l'orizzonte distorto né in un modo né nell'altro perché sarà dritto esattamente al centro. Avremo la distorsione di alberi, pali della luce e altre cose ma in una foto di paesaggio si nota di meno e lo si accetta di più perché comunque si vede una scena un pochettino più ampia. Secondo me è un'ottica divertente da avere, da possedere, da usare però vi dico la verità io via via man mano che passa il tempo la uso sempre di meno perché riscontro che ha un gradimento molto inferiore rispetto ad altre ottiche che uso. Cosa vuol dire questo? Se io uso il fisheye per fare delle foto vedo che il mio cliente scarta quelle col fisheye e tiene le altre. Questo mi ha portato a dire ok però io non voglio che le mie foto vengano scartate quindi se scattare col fisheye mi porta a dei rifiuti sia nel microstock sia con i clienti perché tipo anche shutterstock rifiuta le foto con la motivazione che è la prospettiva non è lineare non è giusta quindi è difficile usare un'ottica come questa. Io mi ci sono divertito molto l'ho usata in diversi contesti ma vi devo dire che ultimamente preferisco a prezzo di gran lunga un buon grandangolo lineare con cui poter rappresentare la realtà per come veramente è e questo dipende anche dal fatto che io lavorando per le aziende teoricamente dovrei rappresentare la realtà com'è perché devo rappresentare un prodotto servizio di un'azienda e quindi non posso stravolgerlo poi di fatto si fa lo stesso in altri modi anche meno visibili perché comunque io devo far vedere che il prodotto è più bello di quello della concorrenza e magari talvolta anche più bello di come realmente non sia quindi il magheggio c'è lo stesso però diciamo che un'ottica come questa sto facendo sempre più fatica a usarla perché molti la associano alla gopro quindi pensano a cosa sportiva e basta è sempre più difficile piazzare le immagini realizzate con questo tipo di ottica quindi io non ve la sconsiglio perché comunque secondo me vale la pena quantomeno provarla e anche possederla io ne ho addirittura due come avete potuto vedere pensateci molto bene perché non è un'ottica da tutti i giorni secondo me non è un'ottica con cui fate tutto è un'ottica con cui fate una cosa sola e è un'ottica che secondo me alla lunga può annoiare molto perché se fate tutte le foto con quella distorsione se il vostro trademark diventa il fatto di utilizzare un'ottica fisheye io me ne sono accorto su me stesso nel momento in cui ho visto che ne stavo facendo tante ho proprio detto ma io non voglio che tutte le mie foto siano così però perché così sembra che sto usando questa distorsione perché non ho altre idee non so comporre non si non si riesce a comporre nello stesso modo con una distorsione di questo tipo bisogna comporre in un altro modo che risulta quasi sempre banale perché è quasi sempre simmetrico per far funzionare questo tipo di distorsione si colloca quasi sempre il soggetto in mezzo io mi sono proprio reso conto non mi piaceva più come stavo lavorando perché avevo l'impressione che da fuori un osservatore avrebbe potuto pensare che scattavo così perché non ero capace di fare nient'altro e lì mi sono detto questa cosa usiamola ogni tanto ma con molta parsimonia che poi è quello che consigliano tutti fotografi più esperti di me è esattamente la stessa cosa che dicono il fisheye si usa quando serve quando vedi che c'è l'occasione di usarlo lo tiri fuori lo monti lo usi ma altrimenti portatelo pure ma rimane in borsa si usa poco e secondo me questo è il modo giusto di usarlo si usa pochissimo proprio quando c'è la foto che che casca giusta con quello allora lo usi ma altrimenti no questa è la mia opinione fatemi sapere nei commenti se conoscete questo tipo di ottiche se la usate già fatemi sapere se la usate per cose che io non ho detto fatemi sapere che tipo di utilizzo ne fate perché sicuramente imparerò qualcosa anch'io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati signori è stato come sempre un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do come sempre appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.